Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, attraverso il nostro canale di YouTube. Dai nostri studi in via Cavur 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura di oggi del settimanale L'amico del popolo. Prima di iniziare, come sempre, leggiamo assieme la frase del giorno per quanto riguarda la giornata di oggi, ovvero di sabato 18 gennaio 2020. Se vuoi volare, lascia andare tutto ciò che ti pesa, Buddha. E con questa citazione, adentriamoci nella lettura di oggi del settimanale L'amico del popolo, vediamo immediatamente i titoli presenti in prima pagina. La notizia principale riguarda la viabilità bellunese, meno incidenti, più patenti ritirate, i dati risinoti dall'osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale. La violazione più ricorrente è quella relativa alla guida in stato di ebrezza. La foto della prima pagina invece è dedicata all'incontro della provincia di Belluno con il suo presidente Roberto Padrin. L'incontro si è svolto in Vaticano con Papa Francesco e l'incontro era riferito a un dono che la provincia ha fatto al pontefice in ricordo di Vaia. La foto di gruppo, dopo la consegna del calendario dell'avvento al Papa, il presidente Padrin era accompagnato dal consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, dall'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari e da una delegazione bellunese. Altri richiami della prima pagina, grandi eventi, c'è fermento a cortina inaugurazione di spicco verso mondiali e olimpiadi, la settima prossima legare della protezione civile. E ancora provincia e regione contro i vincoli su Comelico e Auronzo, il 14 gennaio a Santo Stefano, il consiglio provinciale ha deliberato contro i nuovi vincoli pesaggistici imposti al Comelico e ad Auronzo. E la pagina 2 dell'Amico del Popolo dedica proprio spazio a questo incontro, l'ha approvato un apposito ordine del giorno nella seduta tenuta a Santo Stefano di Cadore. E in questa edizione troverete anche l'approfondimento in merito a quanto ha approvato. Sempre dalla rubrica in provincia nel mondo, iniziative per la sicurezza stradale, riunito a Belluno l'osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale, prevista l'istituzione di una tax force interistituzionale per prevenire gli incidenti. Le finalità dell'attesa, sensibilizzare la comunità bellunese, in particolare quella giovanile, sul tema della sicurezza stradale e sull'importanza di tenere comportamenti alla guida consoni. Pagina 4, piccoli negozi, assegnati i soldi del bando per garantire i servizi essenziali nelle aree marginali tramite attività polifunzionali, distribuiti 1,5 milioni di contributi a 72 attività del territorio provinciale. Grandi eventi cortina, la cabinovia dei mondiali 2021, inaugurato il nuovo primo tronco della freccia nel cielo, taglio del nastro anche sulla pista Lino Lacedelli alle 5 torri. E per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti che rappresentano Mario e Andrea Vascellari, li vediamo qui nelle prime due foto, e sotto il taglio del nastro con le autorità presenti, tra cui l'assessore Canner della Regione, Roberto Padrin della provincia, il sindaco Ghedina del comune di Cortina, e ovviamente i titolari, ovvero Mario Andrea Vascellari, il ministro d'Inca, Roger De Menech e il figlio Andrea Vascellari. Chiesa locale, buone prassi per l'annuncio, sono le dieci parole, l'alfabeto della fede, il linguaggio dell'arte. E ancora dalla Chiesa locale, la domenica delle parole di Dio, prevista per la prima volta il prossimo 26 gennaio. Dalla vita missionaria su Orgiulia, che vi siano pace e pane per tutti in occasione del Natale e del nuovo anno, alcuni nostri missionari ci scrivono, Marzia, i poveri mi mostrano la capacità di sognare e di lottare per trasformare i sogni in realtà. E adesso le notizie che riguardano il territorio belunese, incominciamo con il capoluogo, biblioteca civica, allestimenti in corso per la sede provvisoria al Bembo, il cantiere da cui nascerà la Mediateca delle Dolomiti. E nel 2019, sempre in merito alla biblioteca, presenza e prestiti, crescita continua. Vita belunese, rifiuti, tarifazione puntuale a regime nel corso del 2020, restano le agevolazioni per le famiglie con i bambini, tutto questo per quanto riguarda sempre il capoluogo belunese. E ancora domenica 5 gennaio, la serata a Mussoi, con secco le canzoni natalizie della tradizione. Il cantautore belunese si è esibito con la compositrice Rachele Colombo. Valbelluna, microprogetti, c'è regolamento per dar modo alle frazioni di prendersi cura del bene pubblico. A chi lavora, garantita una copertura assicurativa e un rimborso spese. Da sedi con nuovi orari per gli uffici comunali, non mancano le polemiche dei pari spenalizzati fortemente i cittadini. Per maggiori informazioni in merito ai nuovi orari prestati dal comune di Sedico, andate a visitare il sito istituzionale. Pasina 13, Valbelluna. Siamo a Borgo Valbelluna. Cinghiali, danni per milioni. La proliferazione è stata per troppo tempo sottovalutata e non governata. Il gruppo Natura Lentiai lancia l'ennesimo grido d'allarme. Feltre, raccolta differenziata, 25 mila euro al fondo, per premiare le aziende e i cittadini virtuosi. Il tema della gestione dei rifiuti è e sarà sempre più strategico per le comunità locali. E sempre da Feltre, giovani azioni solidali innovative al via un workshop di coprogettazione per gli Under 25. Tutto questo tra il comune con il comitato d'intesa CSV Belluno. E ancora Feltre, record di presenza al palaghiaccio. Dalle vacanze di Natale all'Epifania, registrato un grande afflusso di pandinatori, frutto degli investimenti della cooperativa e del comune per assicurare più servizi. Feltrino, sulle orme di padre Romando Bottegale. Siamo a Lamone, in pellegrinaggio ai piedi di Lamone a San Donato. Anche quest'anno si è ripetuta l'iniziativa per commemorare la nascita. Santa Giustina, le media, arriva la settimana corta. Questa è una delle novità che interesseranno l'anno scolastico 2020 e 2021. E simpatica foto che rappresenta invece uno scatto a San Gregorio nelle Alpi. Super lavoro per la Befana a San Gregorio. Super lavoro per la Befana a San Gregorio nelle Alpi. La mattina la simpatica vecchina ha fatto visita ai bambini della frazione di Paderno e nel pomeriggio è salita nel capoluogo distribuendo tanti dolciuzzi. Siamo arrivati a Cortina, pagina 13. In comune un bilancio da 30 milioni. L'amministrazione Ghedina guarda i mondiali e le Olimpiadi. Approvate le tariffe dell'Atari, forse con riduzione delle bollette per i rifiuti. E sempre da Cortina, scii, i carabinieri insegnano la sicurezza. Menniti deriva dalla cultura della legalità che va portata ai giovani. Cadore comelico, i dragoni si sfidano sul ghiaccio. Lame sotto gli scafi per l'Auronzo Ice Dragon Boat Festival. Le gare il 22 e il 23 febbraio sulla superficie ghiacciata del lago di Misurina. E una notizia adesso che riguarda anche l'associazione belonesi nel mondo. Comelico superiore emigranti in lutto è morto Martini. Sabato 11 gennaio i molti hanno accompagnato nel suo ultimo cammino terreno Antonio Martini di Casamazzagno, presidente della famiglia degli ex emigranti del Comelico e di Sappada. Con la scomparsa di Martini avvenuta nella mattinata di mercoledì 8 gennaio all'età di 84 anni l'associazione belonesi nel mondo ABM perde un altro valido dirigente. Questo è il commento del presidente De Bona. Un grazie a tutti per aver salutato come meritava Antonio una persona operosa e sempre disponibile per la comunità. Dal Comelico, protezione civile, campionato e soldi la regione ha consegnato 53 mila euro all'Anacadore e le gare nazionali del volontariato Bottaccino saranno una sfida importante. Pagina 22 cominciamo con le notizie riferite alla Gordino siamo a Rivamonte l'area di Lacca attende ancora dopo Vaia deve essere ristemata nuovo panorama scusate luogo di picnic di tornei di partite a calcio e di passeggiate. Dalla Valle sabato si parla di sperimentazione 5G il Comune e Centro UPM parlano di minaccia invisibile dubbi anche avallata intanto l'attivazione della banda larga è in ritardo. sempre dalla Gordino con Cagordino una mattina con Gave e Auser il turno di consegna dei pasti a domicilio utenti e volontari è una tale che si rinnova 365 giorni all'anno e da Canale d'Agordo invece Frana di Carfun la provincia è a lavoro nella prima fase la ripulitura del versante con lo sgombero della strada comunale. Notizia adesso dall'ongaronese Zoldo incominciamo con Sovergine tariffa legata agli svuotamenti il Comune delibera un nuovo sistema di raccolta del rifiuto del secco prevista agevolazioni per utenze che praticano il compostaggio e anche per gli anziani dalla Val di Zoldo invece il tabia raccontato nel calendario in dialetto il lunare 2020 realizzato dai bimbi di scuole elementari e dell'asilo siamo arrivati siamo arrivati nel pago lavori pubblici interventi su edifici scolastici capitoli importanti nel bilancio di previsioni e anche le abbefane in questo caso le abbefane in corteo sono arrivate a tambre tra musiche e balli per il secondo anno consecutivo invece la costituzione in dono è neo diciottenni tutto questo si è svolto nel comune al pago e adesso dalla rubrica i nostri interessi l'appalto del pronto soccorso si parla di sanità auronzo lunedì 20 sarà il termine ultimo per le offerte dalla rubrica in famiglia combattere l'ansia o il cellulare con gli adolescenti bisogna prendere le cose con umorismo e distacco questo è il punto famiglia firma di don gigetto de bortoli sempre dalla famiglia influenza finora 279 ricoveri il bilancio dell'usla a pochi giorni dal picco previsto il dato positivo è che aumentano i vaccini 2500 in più sullo scorso anno dalla cultura dell'amico oltre le vette c'erano oltre 15.000 persone raccolti 5000 euro negli spettacoli gratuiti e con la richiesta di un contributo edizione in archivio con la chiusura delle mostre a palazzo fulcis ancora dalla cultura una strada cent'anni di problemi l'arteria è chiusa dal 1993 dopo un glorioso passato che risale alla guerra tutto questo per quanto riguarda l'ex statale per forcella lavardette siamo a Campolongo stiamo per terminare l'edizione di oggi dedicata alla lettura dell'amico del popolo non possono non mancare le notizie di carattere sportivo il derby vinto dall'Union Feltre ribaltone in casa Belluno col cambio ed allenatore torna al successo l'Union San Giorgio sedico capò interno per il cavarzano atletica leggera ostacolisti bellunesi in evidenza a Modena calcio a 5 ponte gemelle ok ancora rugby al Feltre il biglietto per la pole promozione pallavolo riparte la corsa del Belluno rosa bene anche il limane in serie C e il sedico in serie D e con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno un'edizione dedicata alla lettura del settimanale l'amico del popolo a tutti voi un buon proseguimento di giornata un buon fine settimana in compagnia come sempre di Radio ABM voce delle Dolomiti a tutti Grazie a tutti.